Musica Difendete la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di mio rischio Rimposso il muro! Il drone nemico ha trovato il contenitore di mio rischio, 10 secondi! Eccezionato, non avvicinatevi! Ancora 5 secondi! Proteggete il contenitore di mio rischio a tutti i costi! Sì! Sì! Cambio caricatore! Cambio caricatore! Cambio caricatore! Cambio caricatore! Escondersi è del tutto inutile! Cambio caricatore! 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 Vittoria alla difesa, nemici eliminati Grazie per la visione